Oggi presentiamo questo lettore dell'Opticon, l'OPN 2001, che come vedete è un lettore estremamente piccolo, piccolo come un accendino. La funzione di questo lettore è di collezionare dati, cioè memorizzare i codici letti, in effetti si chiamano data collector. Sono estremamente utili quando dobbiamo fare un inventario veloce, dobbiamo memorizzare tutta una serie di codici a barre e poi in un secondo momento scaricarli sul PC. Andiamo a vedere il funzionamento. Leggo tre codici diversi, lui legge e memorizza. Se ho bisogno di leggere più volte lo stesso codice andrò a puntare più volte sullo stesso codice. Vediamo adesso come si va a scaricare il dato sul PC. Sul PC girerà un programma, quindi io collego la porta USB, il lettore, e gli vado a dire di leggere i codici a barre. Come vedete ho tutti i codici a barre memorizzati, mi fa anche un file. Eccolo qua, il file che possiamo vedere. In questo caso le informazioni del file contengono il codice a barre letto, la simbologia di codice, questo è un codice 39, e l'orario di scansione. Ovviamente questi parametri sono del tutto personalizzabili. Andiamo a vedere questo programma. Questo programma ci chiede le informazioni che noi vogliamo mostrare in questo file. Quindi come ho detto la simbologia, la data di scansione e altri ovviamente parametri che possono essere importanti a seconda delle necessità. Il file che possiamo ottenere un file di testo o un file CSV. Questo piccolo scanner è anche dotato di tasti funzione. Ad esempio, se ci siamo accorti che durante le scansioni abbiamo sbagliato la lettura di un codice perché non dovevamo leggerlo, si va a rileggere il codice premendo questo tasto piccolino che ci consente di annullare i codici che non volevamo leggere. Quindi avere uno scanner di dimensioni così compatte che posso portarlo sia al collo sia ovviamente in tasca, ci consente di memorizzare migliaia di codici e poi memorizzarli ovviamente sul pc in una maniera facile, veloce ed economica. Se vi interessa una soluzione di lettura dei codici potete contattarci ai nostri riferimenti. Grazie a tutti.